oggi volevo andarvi a parlare di dei dati che mi creano problemi quando faccio io analisi di progetti quando vedo analisi di progetti di altre persone e principalmente non so esattamente come risolvere questi problemi però vi vado ve li vado a presentare così ne potete essere più al corrente quando andate a vedere delle analisi quindi i dati che mi creano più problemi sono market cap e tvl quindi sono dati che troviamo su siti molto comuni come defa e lama con market capo con gheco e tutti gli altri iniziamo dal market cap perché dovrebbe essere più semplice market cap è semplicemente da definizione è il prezzo di un asset per il circolante quindi se circola una moneta e questa moneta costa 10 dollari il market cap e 10 dollari poi esiste un'altra metrica che si chiama market cap completamente diluito quindi fully diluted market cap che vede il circolante totale quindi il circolante massimo ci potrà mai essere che ad esempio per bitcoin e 21 milioni però in realtà credo che quella metrica non vada non debba essere utilizzata molto spesso quindi per questo video andiamo un attimo ignorare quindi il market cap è dato da prezzo per numero di monete circolanti in questo momento il problema è che per monete poco liquide quindi per bitcoin e tv non esiste troppo questo problema però man mano che scendiamo nella lista della coin più la moneta è poco liquida più la moneta è piccola e più questo valore di market cap diventa praticamente inutile numero uno perché su siti come con market cap con gheco è un po meglio in realtà su siti che danno grafici come dec screener molti di questi dati sono completamente sbagliati e quindi perché i team devono fare o self reporting quindi devono dire effettivamente qual è il loro circolante quindi possono andare a modificare qual è la loro market cap perché possono inventarsi qual è il loro circolante numero due perché a volte è difficile capire quali token sono locati quali non sono locati quali sono in giro se il token è cross chain quindi molto spesso tutti questi valori di market cap sono sbagliati ma numero due se il token è poco liquido la market cap vale pochissimo quindi è possibile utilizzarla ad esempio per fare confronti ma come valore da utilizzare per un'analisi è molto debole il secondo valore che mi crea problemi è il tvl per motivi molto simili quindi il tvl per definizione è il sempre se calcoliamo il tvl che viene dato da defailama è la denominazione in dollari degli asset che sono messi in staking o in locking su determinati protocolli defy quindi lido ha un tvl di circa 12 miliardi perché nel suo protocollo di liquid staking ha sottostante circa 12 miliardi di asset locati ci sono problemi che sono solo del tvl come ad esempio il tvl a volte viene contato due volte mi ricordo il caso di se non sbaglio curve in cui il tvl su curve veniva contato e poi il tvl di convex veniva contato di nuovo anche su curve quindi il tvl di curve era praticamente raddoppiato casualmente quindi non era non era giusto che fosse così però veniva raddoppiato e quindi tutti i calcoli che venivano fatti sul tvl di curve erano sbagliati perché venivano fatti su un valore che era ingiustamente alto c'è anche il caso di quel protocollo di solana che andava a ricevere dei token metterli in deposito su un altro protocollo di solana ritirava quei token non li ritirava riceveva i derivati del token del protocollo di solana su cui aveva messo il staking e continuava a farlo per altri 5 6 protocolli e quindi tutto il tvl di quel protocollo era moltiplicato per 7 quindi era 7 volte più alto di quello che era realmente quindi anche qui non solo abbiamo un problema di cui vi andrò a parlare tra poco che il problema della liquidità ma abbiamo anche una grossa difficoltà nel calcolare quale veramente il tvl quindi quando il tvl dovrebbe essere contato due volte quando non dovrebbe essere contato due volte abbiamo grossi problemi in questo defailama è un sito ottimo e sta migliorando con il tempo quindi adesso sta anche dicendo quello che vi sto dicendo in questo momento ovvero che ci potrebbe essere un double count però comunque ci sono grossi problemi nel calcolare sia la market cap che il tvl soprattutto per monete poco liquide adesso arriviamo al problema più grande ovvero la mancanza di liquidità quindi se andiamo a vedere un market cap quindi vediamo il market cap in generale di tutto il mercato cripto il market cap in generale del mercato cripto è un miliardo e 300 milioni ora sto arrotondando però diciamo un miliardo e 300 milioni questo valore è molto fuorviante perché se voi andate a vendere tutte le cripto nello stesso istante non avete un miliardo e 300 milioni perché il market cap è semplicemente per come rappresentato adesso su coin market cap è il valore nominale del prezzo per gli asset circolanti di tutti gli asset listati su coin market cap in questo momento però la liquidità che esiste al momento sulle cripto è molto inferiore e quindi se voi andate a vendere tutte le cripto in questo momento magari riuscite a ritirare 300 400 milioni non ho fatto il calcolo ed è molto complesso farlo però diciamo che potete andare a ritirare ad esempio 300 400 milioni quindi esiste esistono grossi problemi al momento con questi tipi di calcoli e questi problemi poi vanno anche nei protocolli dei fari perché possiamo vedere ad esempio non è non è in questo video in cui ne andrò a parlare però ve lo presento molto velocemente per farvi capire ad esempio ave ha un problema molto simile quindi ave quando voi mettete in deposito su ave per avere del collaterale ave non calcola quanto quel collaterale che voi mettete in prestito andrebbe a impattare la liquidità se voi veniste liquidati quindi quanto effettivamente a valore di mercato il vostro collaterale valga ma vi dicono semplicemente voi mettete in stake in 10 monete che valgono 10 dollari allora avete messo 100 dollari in collaterale però se in realtà quel collaterale lo andate a vendere e il prezzo della moneta arriva a zero allora effettivamente il vostro collaterale vale praticamente zero però non è un calcolo che viene fatto in questo momento perché uno dei problemi più grossi che abbiamo in questo momento in siti come defailama con market cap è la mancanza dell'integrazione della liquidità all'interno di queste equazioni quindi nel market cap magari il market cap no però dovrebbe nascere un nuovo una nuova metrica che indica quanta liquidità e quante profonda la liquidità che esiste all'interno delle cripto all'interno di tvl magari non all'interno in tvl ma in una nuova metrica dove dovrebbe nascere qualcosa che ci dice quanto è profonda la liquidità all'interno dei protocolli defail perché 51 milioni di tvl vuol dire che in valore nominale ci sono 51 51 miliardi tvl vuol dire che in valore nominale ci sono 51 miliardi ma se poi andiamo a vendere tutti gli asset che ci sono all'interno dei protocolli defail andiamo a fare forse 20 miliardi e quindi c'è una discrepanza tra quella che è la liquidità reale e quella che è la liquidità che ci viene indicata su questi protocolli e non è un grosso problema se i protocolli sono grossi perché ad esempio laido ha come 12 miliardi molto probabilmente la maggior parte sono in ethereum e quindi non è un grosso problema perché ethereum è molto liquido quindi tendenzialmente magari se andiamo a vendere tutto il tvl di laido non abbiamo 12 miliardi ma abbiamo per dire 7 miliardi 8 miliardi quindi non è troppo diverso dall'alerta però se andiamo su altri protocolli ad esempio possiamo prendere velodrome velodrome ha gli altri asset che sono molto meno liquidi e quindi adesso a 262 milioni di tvl però se andiamo a vendere tutti gli asset che ci sono sopra magari ci fai 50 60 milioni e quindi c'è una discrepanza molto grande tra quella che il tvl quello che è veramente la liquidità che è presente sul protocollo e quindi è possibile numero uno per progetti che vogliono farlo in maniera malevola andare a modificare questi questi valori quindi è possibile creare nuovi asset o dichiarare del tvl fasullo o del market cap fasullo e numero due per anche per progetti che lo vogliono fare bene è molto difficile senza delle metriche appropriate andare a calcolare qual è il tuo vero tvl qual è il tuo vero market cap dovete ricordarvi che la liquidità è quello che conta perché poi molte delle monete che ci sono al momento sono monete che sono basate su speculazione quindi sono monete che andrete a vendere in futuro se ne andate a vendere non mi interessa più quanto tvl esiste quanto market cap esiste mi interessa quanta liquidità esiste quindi abbiamo un grosso problema al momento nel cripto che quello che al momento in quasi tutte le metriche che abbiamo noi andiamo ad ignorare quella che è la liquidità che secondo me è la metrica più importante quindi dovremmo fare molta più attenzione a quella che è la liquidità ma non solo dovremmo fare molta più attenzione a quella che è la liquidità contro asset solidi quindi noi dovremmo contare brabito in rap di rium e qualche stable coin come gli asset più solidi contro cui contare la liquidità quindi se esiste ad esempio una liquidi di pull tra due asset poco liquidi quella liquidità dovrebbe valere molto poco quindi tutta la liquidità che contiamo dovrebbe contare asset molto liquidi come possono essere le stable coin che sono anche backed da qualcosa nel mondo reale e tiro ma bitcoin che sono gli asset più liquidi di questo mercato quindi in tutti questi calcoli che noi facciamo noi numero uno abbiamo degli errori per andare a calcolare questi numeri quindi abbiamo un double count all'interno il tvl abbiamo un calcolo di asset poco liquidi all'interno di tvl che vanno a sfasare tutti i calcoli tvl abbiamo self reporting per il market cap e abbiamo anche di nuovo un calcolo di market cap di asset poco liquidi che vanno a sfasare di nuovo tutto questo calcolo di market cap quindi noi numero uno abbiamo errori in come andiamo a calcolare questi questi valori numero due non andiamo a contare la cosa più importante che la liquidità quindi al momento c'è questo problema e ogni volta che vado a fare analisi dei progetti io ritrovo questo problema sto continuando a pensare come risolverlo ma è molto difficile una delle soluzioni potrebbe essere integrare il black school model che è la maniera in cui vengono calcolate viene calcolato il pricing delle opzioni all'interno di questi calcoli di market cap e tvl però non sono così esperto di black school né di economia per poter dire che numero uno questa è la soluzione corretta numero due non so effettivamente come farla però diciamo che ogni volta che io vado a fare delle analisi su dei progetti trovo questo problema ogni volta che parlo con persone che sono nuove al mercato trovo questo problema quando vedo analisi di altre di altre persone trovo questo problema quindi è importante andare a capire numero uno cosa sono queste metriche quindi di nuovo il market cap è il prezzo attuale delle monete per il circolante il tvl è il valore nominale della moneta messa in staking o locata sul protocollo defi il numero è importante capire cosa sono queste metriche numero due è importante capire che queste metriche si possono essere importanti per alcune cose quindi ad esempio possiamo utilizzare tranquillamente il market cap per fare dei confronti quindi dire ad esempio bitcoin a mezzo miliardo di market cap tiri ma un quarto di miliardo di market cap quindi fare dei calcoli in base a questa differenza di market cap però è importante comunque capire quali sono i problemi ovvero che questa differenza di market cap su monete poco liquide lascia il tempo che trova o comunque il market cap o il tvl di monete poco liquide sono molto meno importanti di monete come bitcoin e tiri e numero tre è importante provare a pensare a una soluzione una soluzione che è possibile implementare ad esempio nel nostro piccolo quando noi andiamo a calcolare quando noi andiamo a diciamo a fare analisi di progetti quindi magari io quando vado a fare analisi di progetti molto piccoli una mia soluzione quella effettivamente di andare a a ignorare il market cap o a utilizzarlo solo per confronti con monete che sono equalmente liquide e il tvl lo vado a vedere solo per monete molto liquide quindi se è un protocollo che ad esempio in staking ethereum vado a vedere sulle tvl di ethereum o solo di altre monete che sono molto liquide oppure andare a trovare delle soluzioni che possono essere implementate da tutti quindi magari andare poi a creare delle dashboard che possono essere simili a quelli di file ama per andare a risolvere questo problema per tutti quindi questo video ho parlato di un bel po di robe scusatemi se c'è eco sono in una casa che è abbastanza vuota quindi ci potrebbe essere eco però il video di fuori l'ho fatto in piscina dove c'era molto vento quindi non so quale dei due quali dei due video sarà meglio come audio in questo video ho parlato di molte cose quindi ho parlato di cos'è tvl cos'è market cap quali sono i problemi quali sono un attimino le mie soluzioni e cosa potremmo andare a fare ricordatevi che la liquidità è la cosa più importante perché quando andate a vendere la liquidità è la cosa che conta quindi se andate a vendere avete 10 per cento di slippage non è positivo quindi la cosa più importante per quasi tutti i protocolli defy per quasi tutte le monete è la liquidità ed è una cosa che noi al momento non integriamo in tantissime metri che in tantissimi calcoli quindi cercate di fare attenzione a questo quando analizzate protocolli cercate di fare attenzione a questo quando vedete analisi di protocolli di altre persone e cercate di fare attenzione a questo quando vedete dashboard come possono essere quelle di defy lama coin market cap con con crypto compare coin gay con tutte le altre quindi questo era quanto vi lascio il link di disco in descrizione potete scrivermi su youtube o su disco rispondosi entrambi